Noi chiediamo la chiusura di Ponte Buriano ai mezzi pesanti superiore alle 20 tonnellate dal momento in cui finiranno i lavori che lo stanno ristrutturando. È Donato Caporali, consigliere comunale del Partito Democratico al Comune di Arezzo, il primo firmatario di un atto di indirizzo che chiede all'amministrazione comunale di evitare il passaggio di mezzi oltre le 20 tonnellate su Ponte Buriano. Adesso il passaggio è consentito in maniera illimitata, c'è solo la corsia alternata regolata da un semaforo. È ormai assodato che Ponte Buriano non possa più sopportare i carichi che finora ha sostenuto e che la strada da assegnare sia quella di un ponte alternativo. Infatti noi anche questo lo scriviamo all'interno del nostro atto di indirizzo, che questo è un primo passo ma che sicuramente per una tutela conservativa già successivamente a questo primo restauro occorre chiuderlo ai mezzi pesanti perché non subisca ulteriori danneggiamenti. L'atto di indirizzo è stato per adesso sottoscritto oltre che da Caporali e anche da Angelo Rossi, Gruppo Misto, Paolo Lepri, Movimento 5 Stelle, Francesco Romizzi, Arezzo in Comune. Mancano Forza Italia e Lega. L'atto verrà depositato per essere poi discusso in Consiglio Comunale. Restano fuori alcune forze di maggioranza ma a cui era stato chiesto comunque la firma. Io personalmente ho contattato alcuni consiglieri per chiedervi una firma. Spero che lo firmino, ancora sono in tempo e vi faccio un appello su questo.